L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha ricevuto giovedì scorso dall'assessorato regionale alla salute i kit necessari per effettuare i test sierologici per la diagnosi del covid-19. Si tratta di uno strumento complementare ed integrativo a quello dei tamponi rino-faringei per il rilevamento della malattia e il monitoraggio dell'andamento del contagio in provincia. La direzione strategica dell'ASP nell'esprimere compiacimento per la nuova dotazione in grado di accrescere le possibilità di diagnosi sta pianificando le modalità di utilizzo e distribuzione degli importanti presidi. Attraverso i test sierologici è possibile ricostruire la storia della malattia individuando gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario di un soggetto in risposta al virus. I test sierologici che possono essere di due tipi vanno alla ricerca degli anticorpi o immunoglobuline che indicano la situazione della persona rispetto all'infezione. Buona notizia intanto per tanti lavoratori precari dell'ASP di Agrigento. I vertici dell'azienda sanitaria provinciale hanno annunciato l'adozione di due provvedimenti necessari per la fuoriuscita del personale dal precariato. Le deliberazioni in corso di pubblicazione riguardano la stabilizzazione del personale contrattista in servizio in azienda e l'attuazione della procedura per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione di quanto previsto dalla legge MADIA il decreto 75 del 2017 a beneficio di quei lavoratori in servizio da prima alla data del 31 dicembre 2017 e successivamente in virtù dei nuovi provvedimenti normativi con limiti temporali ampiamente postdatati. In passato l'ASP non era riuscita a colmare le istanze di tutto il personale che aveva fatto richiesta di stabilizzazione adesso il management aziendale di concerto con le diverse sigle sindacali e con l'avallo dell'assessorato regionale è riuscito finalmente nell'intento di dare ai lavoratori le risposte da tanto tempo attese. Secondo quanto annunciato nel corso della prossima settimana verrà pubblicato sul sito web aziendale per la durata di 20 giorni un bando riservato al personale interno contrattista al termine del quale verrà redatta una graduatoria interna definendo così un iter che si cercherà di chiudere già entro il mese di giugno. Per quanto riguarda il secondo provvedimento sia l'avviso di stabilizzazione ex legge media con le modifiche apportate dalla finanziaria 2019 e dal famoso decreto mille proroghe si profila un iter leggermente più lungo vista la necessaria pubblicazione in gazzetta ufficiale della procedura concorsuale ma l'auspicio è quello di poter giungere in estate alla conclusione dell'iter. Si tratta di un traguardo estremamente importante afferma il direttore generale Alessandro Mazzara raggiunto in un momento in cui tra le infinite priorità legate all'emergenza coronavirus si è cercato di non fermare il resto dell'azione amministrativa dell'azienda adottando tanti altri provvedimenti di estrema necessità e fra questi quelli proiettati alla stabilizzazione dei lavoratori precari. Il risultato permette non solo di valorizzare il personale in servizio ma anche di offrire maggiore serenità a tante famiglie agrigentine. Con la stabilizzazione di tutti i lavoratori ex articolisti è stato raggiunto un bel traguardo, commenta soddisfatto il deputato regionale Carmelo Pullara. Con questa procedura si potrà dare dignità a questi lavoratori che da oltre 20 anni assicurano quotidianamente il funzionamento delle amministrazioni ospedaliere e sanitarie, conclude Carmelo Pullara.